Grazie a tutti. Grazie a tutti per darci la possibilità domenica notte di avere a disposizione i video. I video sono divisi, a parte il mio che non c'entra niente, quindi non lo guardate nemmeno. Cominciate con gli altri video, saranno divisi 30 minuti, saranno circa 15 video di 30 minuti. Vi prego in settimana di andarveli a rivedere. Ho sentito prima uno, diceva, beh, ma alla fine del metodo, ma che cos'è? Ha detto una parolaccia, non lo dico, è una stro... Non è vero, non è vero perché poi quando andrete a metterlo in pratica vedrete quanto non è facile, non è facile costruire quella scaletta, quei contenitori. Quindi questa settimana, intanto cominciamo venerdì, la sera, vedete i filmati? Sono divisi, li vedo per 30, l'abbiamo fatto, li faranno 30 minuti proprio per darvi la possibilità di vedere. Lì potete vedere quanto volete. Ho visto che quasi tutti siete stati accreditati, ancora ce ne sono alcuni. Chi non è accreditato dovrebbe mandare un'email, se stasera lo accreditiamo alla piattaforma. E questo è quanto, dal punto di vista tecnico. Vi hanno già detto ieri come organizzeremo le aule, in ordine alfabetico, vi prego di non faremo eccezioni. Non so se l'hanno detto, ma io lo ripeto, perché i motivi ve l'hanno spiegato, è importante stare tutti insieme. Un'altra cosa che volevo dirvi, che potrebbe essere un momento di riconoscimento, lo so che tutti quanti avete lo zainetto firmato, tra virgolette, eccetera. Quello zainetto che vi abbiamo dato noi, l'abbiamo fatto apposta, con i soldi vostri naturalmente, sempre, l'abbiamo comprato e distribuito, deve essere un segno di riconoscimento. E' importante perché oltre a voi c'è un altro gruppo che fa online, quindi quello zainetto, poi se riuscite a tenerlo e a portarvelo anche, si può portare? No, in tribunale no, quando vengono qua, quindi potrebbe essere un'idea perché fare squadra diventa molto importante. Allora, abbiamo alcuni della nostra squadra che conoscerete singolarmente, comincio con Francesco Pignatello che dopo... Noi ci saluteremo dopo con calma, io mi occupo della parte di amministrativo, quindi chi farà amministrativo sarà tediato da me per cinque weekend almeno, parlo di weekend e non di giornate perché poi, come vi spiegherò, noi saremo insieme dal sabato mattina, pomeriggio e domenica mattina, quindi saranno proprio cinque weekend insieme. Diana l'avete conosciuta, ieri è il punto di riferimento per la correzione di compiti, è la responsabile della coordinatrice della correzione, coordino tutti i correttori, quindi avrete modo di incontrarla. Luca, l'avete visto ieri nella relazione, Claudio Breda non c'è, verrà più tardi e farà penale, quindi avete modo di vederlo. Teresa Campani invece, dove è andata in vacanza stamattina? Perché mi ha detto ieri c'era, oggi non c'è. Ho qua un elenco, Anna Ciufolini. Anna, che ci vuoi dire? Tu hai fatto un'esperienza, lei è la nostra ex corsista che ha superato il concorso d'avvocato, è scritta, è diventata avvocato ma non vuole fare l'avvocato, vuole fare il magistrato, perché? Mi sono dedicata ai concorsi per ora e alla professione d'accompagno. Io con voi lavorerò sui pareri, sia di civile sia di penale, quindi avremo modo di conoscerci molto bene. Disponibile a qualsiasi domanda, a qualsiasi aiuto da parte di tutti. Grazie. Francesco Maria Marisca è anche... dove sta? Fa qua. Eccoci. E' un avvocato? Buongiorno. Sì, sono avvocato civilista, noi quindi ci vediamo già venerdì, ci vediamo in aula con uno splendido parere e sono contento perché con qualcuno di voi già ci siamo visti per i corridoi di Viale Giulio Cesare, ma mi auguro in realtà di non vedervi più, nel senso che in tribunale non voglio più vedervi, perché insomma vorrei sapervi a casa a scrivere i pareri. Allora, Flavia Tancredi. Ciao a tutti, io sono civilista, quindi mi occupo della correzione dei pareri di civile e degli atti di civile e concordo e soprattutto confermo la nostra totale disposizione nei prossimi mesi. Dunque, dove sono arrivato? Cinzia Caverna. Ciao a tutti, anch'io sono un avvocato civilista, insieme a Flavia mi occuperò della parte di civile, quindi i pareri e gli atti. Gli anni precedenti eravamo noi degli atti, quelle cattive, però poi non vi preoccupate, è solo una scorza, poi speriamo che si raccoglieranno i frutti. In bocca al lupo a tutti. Quest'anno non metteremo i voti, abbiamo detto, metteremo sufficiente, sufficiente, anche perché con i voti magari qualcuno poi si era preoccupato, perché dice come, un voto così basso, perché mettere un voto così basso? E quindi per non far perdere inizialmente il coraggio di andare avanti, useremo quell'altra tecnica. Allora, Arianna Poletti non c'è, sta in vacanza oggi, Eugenia Alvisi. Buongiorno a tutti, anch'io sono avvocato, mi occupo prevalentemente del diritto civile e mi occuperò della correzione dei vostri pareri e degli atti di diritto civile, poi ci conosceremo meglio nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Grazie, Rosanna Cardi. Buongiorno a tutti, io sono avvocato, penalista, mi occuperò dei pareri di diritto penale, per cui ci vedremo sabato per la correzione a tu per tu. Grazie, ce ne sono altre, ma oggi non sono presenti, invece vi volevo presentare, venga qua Yolanda, allora la ragazza che risponde a telefono, dice mi passa la ragazza che risponde a telefono, è lei, è una ragazza, è una nostra collaboratrice, professore della scuola, è laureata in Economia Ambientale, quindi sarà il vostro punto di riferimento, potete chiamare, risponderà sempre a lei e alle vostre telefonate, e quindi mi pare che la squadra l'abbiamo completata. La cosa che vi raccomando è questa, i docenti, i correttori, eccetera, contattateli, parlate, ma soltanto di problemi collegati alle tracce e ai pareri, mentre la segreteria è a disposizione di un numero di telefono per essere contattata relativamente all'accesso alla piattaforma, eventuali problemi e così via.